Per questo Io sono Muschietti Nicola Sono uno degli attori che ha partecipato a questo docufilm Volevo invitarvi veramente in tanti a venire a vedere questo docufilm In quanto il progetto è veramente molto bello e interessante E' un progetto che parla di multiculturalità Di diversità Io sarò il classico ragazzo barese In mezzo a tutti questi accenti stranieri Dall'inglese al francese c'è il dialetto barese Quindi vi mando un bacio a tutti e vi aspetto veramente in tanti Ciao, buona giornata